Giosuè Malaponti, presidente del Comitato Pendolari Siciliani, Ciuffer, Catania, ancora una volta si fa portavoce dei disagi dei pendolari e in una nota evidenza gli ultimi fatti accaduti nella stazione di Tormina con il primo treno regionale veloce partito da Messina per Siracusa alle ore 5.13. Premesso che i guasti e mezzi rotabili e le interruzioni alle infrastrutture ferroviarie ci possono stare, scrive Malaponti, Quello che invece non condividiamo affatto sono gli accorgimenti che l'impresa ferroviaria Trenitalia, affidatari del servizio di trasporto ferroviario in Sicilia fino al 2026 e il gestore dell'infrastruttura ferroviaria Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. mettono a disposizione dell'utenza ferroviaria in queste criticità. Malaponti lamenta in particolare il caso del treno 3865 arrivato a Tormina e poi fermato per un guasto tra Tormina e la stazione di Fiumefreddo di Sicilia. Un bus sostitutivo messo a disposizione dalle ferrovie alla stazione di Tormina con soli 16-20 posti carica alcuni pendolari mentre altri restano a terra in attesa del secondo bus. Poco dopo veniva fatto partire il treno regionale 3865 lasciando a terra tutte quelle persone che erano fuori ad aspettare il bus sostitutivo. È inimmaginabile quanto è successo alla stazione di Tormina, spiega Malaponti. Nessuna tempestiva informazione da parte di Chiopere gestisce sia il trasporto che l'infrastruttura ferroviaria. Nessun numero telefonico dove poter chiamare per avere informazioni. Chi risarcirà i pendolari per le ore di lavoro perse da recuperare? Si chiede Malaponti. Il comitato pendolari siciliani chiede quindi al presidente della regione Musumeci e all'assessore regionale ai trasporti Marco Falcone di fare luce su questo enorme disagio di servizio procurato a migliaia di utenti dal trasporto ferroviario. Tenuto conto che la regione Sicilia paga all'impresa ferroviaria Trenitalia SPA 111,5 milioni di euro per il trasporto ferroviario e che anch'essa viene danneggiata da questi problemi tecnici sempre più frequenti alle infrastrutture ferroviarie.